Estendere il sistema di controllo automatico degli accessi alla zona traffico limitato nel centro storico di Palermo. Sembra essere questa l'intenzione dell'amministrazione comunale, che ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'autorizzazione a procedere all'installazione di 26 nuovi varchi telecontrollati. Per realizzarli si intende utilizzare i fondi della Comunità Europea, in particolare del programma PON Metro Città Metropolitane 2014-2020. L'attivazione del sistema elettronico di controllo per tutti i varchi della zona traffico limitato del centro storico, ha dichiarato l'assessore alla mobilità Giusto Catania, completerà il percorso avviato qualche anno fa. La fase propedeutica si è completata e siamo adesso in attesa dell'autorizzazione ministeriale per procedere al posizionamento dei dispositivi. Riteniamo, aggiunge l'assessore, che il controllo di tutti i varchi servirà ancora di più a limitare la pressione veicolare nel centro storico, e a migliorare la qualità dell'area e la tutela del patrimonio monumentale della città. La data di completamento delle operazioni previste è il primo semestre del 2020. Attualmente le cinque postazioni di videocamere di controllo sono posizionate nei varchi in Piazza Verdi, Via Gaggini, Portosalvo, Porta Felice e Via Roma. Ecco invece dove l'amministrazione vuole istituire i nuovi 26 varchi. Via Francesco Crispi, Foro Umberto I, Via Lincoln, Via Carlo Rao, Piazza Giulio Cesare, Piazza Porta Sant'Agata, Via Mignosi, Via Avolio, Via del Ritiro di San Pietro, Via Generale Luigi Cadorna, Via Antonio Mongitore, Piazza Baronio Manfredi, Corso Calatafimi, Piazza Domenico Peranni, Vicolo Pirriaturi, Via Papireto, Piazza Verdi, Via Roma, Via Cavour, Piazza della Calza e infine Piazza Sant'Anna al Capo.